Questo prodotto l'abbiamo sviluppato insieme a tutti gli attori che vedete al tavolo, oltre che a un gruppo di professori individuati all'inizio dall'amministrazione e professionisti che a titolo gratuito costituiscono il comitato scientifico. Qui ci vediamo una volta al mese per definire le tappe che deve poi seguire il PUMS, il direttore del dipartimento, in particolare il dipartimento PAO, programmazione urbanistica e dipartimento mobilità e trasporti e poi le tre aziende, noi che sviluppiamo le attività più tecniche per poi sottoporre agli indirizzi dell'amministrazione. Io andrei, sono cinque sezioni del portale, la home page appunto, poi c'è il piano dove vengono spiegate le fasi del PUMS, gli obiettivi, le linee guida che l'amministrazione ha costruito in questi mesi di lavoro che abbiamo appunto anticipato e dei documenti che poi è possibile scaricare per consultare passo passo tutte le attività che svolgiamo. In questa sezione adesso trovate caricate appunto le linee guida di Roma Capitale che partendo da quelle europee del 2014 riprendono in particolare il processo di partecipazione ma definiscono gli obiettivi che l'amministrazione si è prefissata. Ci sono quelle europee appunto e il documento delle opere invarianti, documento essenziale perché definisce questa fase di lavoro iniziale nell'attesa che venga completato il piano e definiti gli scenari delle opere ai diversi orizzonti temporali di breve, medio e lungo periodo, ci dà il quadro di lavoro e il momento per focalizzare su alcune opere che sono state appena enunciate. La parte importante del portale è sicuramente la parte di partecipazione. C'è una mini guida che spiega come partecipare, come registrarsi e quindi si può registrare sia un cittadino utente singolo che un'associazione, un ente, una società, in maniera tale che abbiamo il quadro delle esigenze anche da aggregazioni di cittadini. In questo modo la proposta vale sempre, anche se un gruppo di cittadini che ce la presenta, è comunque una proposta unica che deve essere poi approvata, in qualche modo valorizzata anche dai commenti di tutti i cittadini che si collegheranno al portale. Una volta registrati, adesso sono dentro con il mio account, il cuore della partecipazione sta qui. Questa è la mappa in cui è possibile innanzitutto avere il quadro della situazione attuale. Vedete sulla sinistra la possibilità di pulire la mappa una volta che uno ha acceso diversi layer. Lo scenario attuale ci permette di costruire tutta la rete attuale, cliccando su ogni, cerco di non dilurgarmi troppo, ma delle informazioni le vorrei fornire. Si possono, ovviamente c'è l'etichetta della linea che si sta visualizzando, la rete tramviaria, la rete metropolitana. Già qui si capisce che Roma non è proprio sprovvista di rete ferroviaria, in quanto ci dà l'idea di quello che abbiamo a disposizione oggi e di quello che potremmo fare domani. I corridoi e i parcheggi di scambio. Questi elementi, che tutti insieme possono creare anche una certa confusione per orientarsi, possono essere accesi uno per volta. All'interno di questo sistema ovviamente ci sono le viste ciclabili, i confini di Roma Capitale municipali e questo layer che permette di vedere la distribuzione in pesi della popolazione degli addetti per singola zona censuaria. Andando appunto nel merito di ogni singola cella si può capire quanta è la popolazione e quanti sono le persone che vanno, con addetti intendiamo le persone che vanno a lavorare in quel luogo. E quindi anche quando si va a proporre un intervento le dimensioni possono cambiare in funzione della densità e quindi anche i livelli di infrastruttura che si propone ovviamente si cambiano in funzione del territorio che si va ad analizzare. Un'altra cosa importante per farci capire come è organizzata la città, quali sono le regole che nel PUMS avranno un ruolo fondamentale sono i confini delle zone a traffico limitato e quindi ci sono le ZTL diurne, le ZTL notturne e in particolare poi ci sono anche le ZTL busturistici, merci. Ci sono delle attività che dobbiamo fare per proprio metterle a sistema e questo strumento ci permetterà appunto anche di focalizzarle, guardarle, confrontarci e in qualche caso risolverle. Il terzo elemento fondamentale e poi arrivo subito a come si fa una proposta sono i punti fermi e cioè le invarianti, quelle che sono state definite invarianti approvate con delibera appunto di giunta dove sono stati costruiti, vi faccio vedere velocemente, vi accendo i layer, questa è la rete tramviaria, le ferrovie, le stazioni che ovviamente legate insieme ai tram attuali vanno a costituire una rete, vanno a costituire un insieme di infrastrutture che lavorano per migliorare l'effetto di ripartizione modale, gli spostamenti sul trasporto pubblico. La stessa cosa che vedete, che vi ho appena illustrato, sul trasporto pubblico è presente anche sulla ciclabilità, su una serie di infrastrutture appunto che l'area mobilità allenta, la ciclabilità e quindi ci sono tutte le piste ciclabili che sono le rastrelliere. Queste sono le rastrelliere che sono in progettazione e che andremo a posizionare sul territorio, che l'amministrazione andrà a posizionare sul territorio tra qualche mese. Poi ci sono le piste ciclabili divise per appunto progettazione definitiva addirittura esecutiva, quelle programmate, quelle che stiamo studiando la fattibilità e il GRAB che è un intervento a sé stante dove stiamo appunto nella fase di progetto di fattibilità. Con il quadro, quindi ogni cittadino può scegliere in funzione dei piani direttori che ha illustrato l'assessore Ameleo, si può andare a proporre un intervento e quindi praticamente cliccando sulla mappa è possibile fare una proposta. Vi faccio vedere brevemente, in maniera tale che si possa comprendere la rapidità. Spostandosi col cursore ci si posiziona nel punto dove si vuole fare la proposta, appare la localizzazione che può essere corretta ovviamente, specificando dettagliatamente l'indirizzo. Il titolo della proposta, non so, un parcheggio di scambio piuttosto che una pista ciclabile, quello che vogliamo, si sceglie la categoria, cioè dove stiamo provando a fare un nostro intervento. Trasporto pubblico, trasporto privato, perché ovviamente il PUMS avrà anche un piano che riguarderà la velocizzazione degli itinerari principali. Logistica urbana, sistema di ciclabilità, area mobilità lenta, sicurezza, accessibilità per tutti e diffusione tecnologica. Dopodiché si andrà a indicare se è un adeguamento o un nuovo intervento, la descrizione della proposta e quindi una breve descrizione, ma soprattutto la possibilità di allegare dei file dove si può illustrare dettagliatamente l'intervento che si propone. A questo punto, una volta recepito l'intervento, adesso non lo salvo perché il portale è online, quindi sarebbe una cosa non fatta bene, si può poi andare sulle, si può navigare tra le proposte e si può decidere di appunto sceglierne una, commentarla, quindi scrivere qui un commento alla proposta migliorativa, peggiorativa, di gradimento o meno e soprattutto votarla. Questi saranno il modo per poter esprimere appunto la partecipazione o meno positiva o negativa alla proposta che ha fatto un altro cittadino e a quel punto noi avremo un set di opere che studieremo dal punto di vista tecnico, costruiremo degli scenari che poi l'amministrazione deciderà come e in che modo proporle ai cittadini, attraverso degli eventi, attraverso delle votazioni online come è già accaduto per Viale Marconi. Ci saranno diversi modi di poter collaborare ed esprimerci sullo scenario che verrà illustrato per singola tematica. Allora, questo è quanto, il portale è pronto e quindi noi siamo pronti a ricevere tutte le informazioni e quindi a questo punto poi a lavorarle. Grazie. Grazie.